Noi avevamo fatto dei documentari con questo Giulio Petroni, che aveva lavorato tanti anni in India e siamo riusciti a trovare un distributore che era Goffredo Lombardo, con cui ho fatto una lunga amicizia. Attraverso Goffredo Lombardo abbiamo trovato anche un coproduttore americano, l'United Artist. Quindi abbiamo potuto affrontare 4-5 film di grossa dimensione, perché c'era una coproduzione francese e americana. Siamo entrati in un altro ambito, non più del western piccolo. E questo ci ha portato a un altro livello. Autista sotto casa, una villa come ufficio. Si sentivano i nomi sempre di Marco Ferreri, Ugo Tognazzi, Gianluigi Polidori. E lì ho fatto le cose più svariate. Sentivi, ah, si faceva un film in Bulgaria, Michele Strogoff, si faceva un altro film con Bud Spencer. Marco Ferreri veniva, andava da casa. Arrivavano anche i cambiali, insomma, c'erano problemi economici dappertutto.